Buongiorno a tutti bentornati nel mio canale oggi vorrei fare un video che mi è stato richiesto da un bel po' di persone siccome è stato notato diciamo nei miei video che io spesso cambio orecchini cioè se andate a vedere i video effettivamente forse potete notare che spesso ho degli orecchini sempre diversi ma perché io ho tantissimi orecchini quindi io anche nella vita di tutti i giorni quindi non solo quando faccio i video ma anche quando mi faccio gli affari miei vado a farmi le mie commissioni insomma quando esco nella mia città molto spesso cambio orecchini quindi è molto probabile che io abbia tutti i giorni un paio di orecchini diversi perché ne ho tantissimi e sono appassionata io di bigiotteria di collane di orecchini mi piacciono tantissimo e quindi ne ho accumulati veramente tantissimi negli anni e quindi voglio anche utilizzarli tutti quindi molto spesso li cambio e alcune persone mi hanno detto ma perché non fai un video in cui mostri tutti i tuoi orecchini visto che ne hai così tanti e io ho pensato che poteva essere una buona idea quindi eccomi qua a fare questo video volevo farvi vedere i miei orecchini però siccome ne ho tantissimi non potevo farveli vedere tutti perché siamo qua due giorni perché ne ho veramente tanti io ho due contenitori alti così tutti pieni di orecchini quindi non sarebbe stato possibile fare un video di una durata diciamo normale per farvi vedere tutti i miei orecchini quindi ho pensato di selezionarne alcuni e di farvi vedere quelli che secondo me sono un pochino più particolari un pochino più belli diciamo e appunto volevo farveli vedere in questo video li ho selezionati li ho messi in questa scatola qui ne ho degli altri e cominciamo subito perché già sarà un video lunghissimo se mi perdo anche in chiacchiere non la finiamo più vi faccio vedere prima questi questi mi piacciono molto sono fatti così sono un po' particolari perché hanno questo motivo un po' come dire che sembra quasi una stella una stella di neve non so è molto particolare come motivo questo e questi sono orecchini che mi piacevano molto sono hanno dei brillantini argentati sono veramente molto molto luminosi poi vi faccio vedere questi che hanno questa forma così che ricorda un fiore e anche questi secondo me sono veramente particolari e carini vi faccio poi vedere questi che hanno la forma del dado da gioco diciamo è un cubo praticamente hanno il tondino in cima e poi questo cubo in fondo e anche questi a me piacevano moltissimo tutti gli orecchini che vi sto facendo vedere li ho comprati nel corso degli anni quindi ne ho tantissimi perché sono tanti anni che io compro orecchini alcuni orecchini li ho fatti io quindi quando arriveremo a quelli che ho fatto io ve lo segnalo questi anche sono un pochino particolari hanno la forma del fiore sia a metà che in fondo e hanno poi questo tondino col brillantino e questo si solleva quindi praticamente è un fiore che ha sopra un cerchio vedete è fatto così c'è il fiore e poi c'è questo cerchio che va a finire sopra questi li ho portati veramente tantissimo soprattutto negli anni scorsi li ho messi tantissimo questi invece sono nuovi ve li ho fatti vedere già in un video in un video hall vi ho fatto vedere degli acquisti e mi ricordo di avervi fatto vedere anche questi orecchini quindi ve li avevo già fatti vedere e questi anche mi piacevano perché sono molto luminosi questi sono un po' particolari perché hanno il cavalluccio marino quindi hanno la forma del cavalluccio marino questi li porto soprattutto in estate perché avendo appunto il cavalluccio marino mi sembrano a tema poi ho questi che sono più semplici in realtà perché sono semplicemente due cerchi così uno più piccolo uno più grosso ma mi piaceva molto la luminosità che hanno perché comunque hanno questi brillantini argentati fatti così che poi danno davvero luminosità e questi anche li porto spesso questi invece li ho fatti io vi faccio vedere se riesco a sbrogliarli perché essendo hanno questa forma a spirale e molto spesso si impigliano eccoli qua questi qua li ho fatti io adesso io ve li stavo facendo vedere non a coppia ma uno solo perché poi ovviamente sono uguali quindi insomma questi li ho fatti io sono fatti in questo modo qua e hanno praticamente questa forma a spirale e hanno la perlina rossa sotto e questi sono due orecchini che io ho fatto con una specie di filo rigido non so neanche che materiale sia in realtà me l'aveva regalato mia mamma perché lei faceva bigiotteria anni fa e aveva questo filo io praticamente non ho fatto altro che attorcigliarlo su se stesso in questo modo poi metterci una perlina sotto e insomma mi sono fatta questi orecchini quelli che ho che indosso adesso anche li ho fatti io questi qua questi hanno un cubo praticamente rosa in fondo e poi hanno due perline sono molto semplici da fare questi spero che li vediate abbastanza bene sono questi e anche questi li ho fatti io poi vi faccio vedere questi che mi ha regalato mia mamma e sono un po' particolari perché sono a forma di triangolo eccoli qua questi sono a forma di triangolo ve ne sto facendo vedere uno e non la coppia perché comunque sono uguali quindi se ve ne faccio vedere uno riesco anche a tenerli meglio questi sono proprio particolari perché insomma sono sul marrone e hanno questa forma a triangolo che è bellissima secondo me poi vi faccio vedere questi che sono molto lunghi perché sono veramente lunghi guardate arrivano praticamente qua sulla spalla quindi sono lunghissimi e a me piacciono tantissimo in estate questi sono molto molto carini ovviamente con questi magari non metto la collana o se la metto ne metto una molto molto sottile perché essendo già così lunghi ovviamente insomma non posso sembrare un albero di natale però anche questi secondo me sono belli li porto molto volentieri poi vi faccio vedere questi che ho fatto io sempre con quel materiale di prima quel filo particolare che mi ha regalato mia mamma e questi forse li avevo indossati in qualche video non lo ricordo però insomma anche questi li ho fatti io ve ne faccio vedere uno solo ecco questi sono molto grossi e hanno questa forma un po' irregolare un po' particolare sono fatti a mano quindi sono molto molto irregolari e anche questi comunque sono piuttosto grossi perché vedete che rimangono poi molto vistosi e visibili però insomma anche questi mi piacevano e poi vi faccio vedere questi che hanno invece i cuori il cuore in cima, il cuore al centro e poi le gocce e anche questi mi piacevano tantissimo poi non è che abbiamo finito voi pensavate invece no ce ne sono ancora questi me li ha portati mio zio dalla Thailandia quindi questi arrivano dalla Thailandia anche questi sono molto particolari secondo me hanno la perlina azzurra hanno questa forma un po' così a conchiglia e questi secondo me sono molto belli questi li avevo fatti io all'uncinetto eccoli qua questi sono molto particolari perché sono molto brillanti come verde ma io li ho fatti verdi perché avendo i capelli rossi comunque secondo me ci stavano bene e hanno un filo che è abbastanza rigido quindi poi rispetto all'uncinetto classico diciamo il filo per l'uncinetto che di solito è cotone questi riescono a stare rigidi quindi poi quando sono indossati sono degli orecchini che sono più portabili magari rispetto agli altri perché appunto sono rigidi poi vi faccio vedere questi che sono lunghi e hanno la pietra blu sono fatti in questo modo poi vi faccio vedere questi questi sono un po' particolari hanno questa forma che sembra un po' quasi una croce ma in realtà è un fiore perché ha i petali e ha questa pietra centrale anche questi mi piacciono tantissimo poi questi me li ha regalati mia mamma e sono bellissimi secondo me perché hanno la forma della rosa questi anche secondo me sono proprio belli hanno la forma della rosa sono davvero spettacolari so di averli indossati anche questi in alcuni video sono sicura sono sicura di avere dei video sul canale in cui indosso quegli orecchini poi questi sono particolari perché sono bianchi e neri e hanno le stelle appunto il motivo con le stelle sotto questi si sono fatti così si sollevano diciamo infatti bisogna stare un po' attenti quando si portano perché spesso succede che questo si giri dall'altra parte quindi insomma sono un po' scomodi però mi piacciono questi anche me li ha regalati mia mamma e sono molto carini sono verdi con tutti i motivi dorati sopra secondo me anche questi con i capelli rossi stanno bene questi li ho comprati tantissimi anni fa e sono argentati con questa pietra bianca al centro e anche questi insomma quando li ho comprati mi avevano colpito subito questi me li ha regalati mia mamma e sono dorati con la luna sopra quindi diciamo che vanno un po' a rappresentare il sole e la luna e anche questi sono veramente belli sono molto fini secondo me molto carini e me li aveva regalati tanto tempo fa forse a Natale un Natale di tanto tempo fa questi sono neri lunghi neri e dorati sono molto lunghi anche questi sono fatti così hanno questi questi tre quattro scusate questi quattro fili così lunghi con la pietra sotto anche questi sono particolari poi vi faccio vedere questi che sono la new entry perché questi li ho comprati di recente hanno la forma della stella nera e poi tutto al bordo è dorato quindi anche questi mi piacevano perché a me comunque le stelle piacciono molto nella bigiotteria poi vi faccio vedere questi che sono lunghi sono rossi sono bordeaux in realtà sono lunghi e hanno questa pietra sotto a me piacciono moltissimo gli orecchini lunghi perché comunque avendo il collo abbastanza lungo secondo me valorizzano quindi mi piace molto portare gli orecchini lunghi questi sono stati notati in un video che avevo fatto forse non so se stavo parlando dei flop del 2017 comunque qui almeno due persone mi hanno scritto nei commenti che erano belli questi orecchini e sono questi sono dorati e hanno la forma del triangolo e questi insomma sono già stati notati ma io ve li faccio vedere perché comunque fanno parte dei miei preferiti questi sono dorati e hanno le pietre viola sono fatti così sono molto carini poi questi questi li avevo comprati su amazon mi ricordo e li volevo perché avevano questo colore bronzo quindi non sono né dorati né argentati ma sono color bronzo e siccome avevo una collana di questo colore volevo trovare degli orecchini che si potessero abbinare quindi avevo preso quelli questi anche mi piacciono molto sono dorati hanno il cerchio e hanno questo motivo qua sul davanti che comunque mi piace molto questi sono sul nero e l'argento e anche questi sono piuttosto lunghi vedete sono fatti così e anche questi li ho portati tantissimo soprattutto anni fa questi li avevo comprati nella mia città ma sono un po' pesanti da portare quindi pesano un po' sull'orecchio però mi piaceva proprio il motivo che hanno questo verde acqua sotto quindi questa pietra verde acqua e poi sopra questo motivo dorato fatto così veramente lo trovavo veramente bello e quindi me li ero comprati però poi quando è stato il momento di indossarli mi sono accorta che pesavano tanto sulle orecchie quindi mi è dispiaciuto non riuscire praticamente a portarli questi sono dorati hanno la classica forma della foglia anche questi forse ce li ho in qualche video non ricordo questi li ho fatti io questi sono molto semplici in realtà perché hanno semplicemente tre pietre una nera una bianca e un'altra nera fatti così ma li avevo fatti perché avevo una collana bianca e nera fatta in questo modo e volevo gli orecchini uguali quindi insomma mi ero fatta questi orecchini poi questi sono sempre a triangolo come quelli di prima ma più piccoli e hanno questo verde acceso al centro questi li avevo comprati forse su amazon anche questi questi li ho fatti io e sono neri sono fatti così sono lunghi hanno queste perle nere poi ne hanno alcune argentate al centro tanto per dare un po' di luce anche questi io li avevo fatti per fare l'abbinamento con una collana nera che avevo che è fatta in quel modo poi questi me li ha regalati mia mamma ve li faccio vedere subito e hanno sono abbastanza lunghi e hanno le farfalle azzurre se riesco a sbrogliarli ve li faccio vedere ecco sono fatti in questo modo hanno le tre farfalle azzurre e sono secondo me molto leggeri da portare anche come colore infatti li porto molto spesso in estate questi e anche questi mi piacciono questi li avevo fatti io avevo praticamente questa parte quadrata che era la fibbia di una cintura non sapevo cosa farne e ci ho tirato fuori due orecchini quindi ho fatto questo tipo di orecchino fatto in questo modo qua insomma io a volte quando mi parte la creatività non mi ferma più nessuno e creo delle cose un po' particolari questi sono anche loro una new entry sono gli orecchini a forma di fiore dorati questi sono molto molto leggeri anche proprio come fattura quindi mi piacciono tantissimo questi sono più semplici in realtà perché sono così a forma di goccia e hanno la pietra viola all'interno non so se con la luce riuscite a vedere ma comunque è un bel viola questo qua è un viola che secondo me è luminoso non è un viola scuro però forse con questa luce non si vede bene vi faccio poi vedere questi che sono anche loro una new entry sono più semplici perché sono semplicemente un cerchio così un po' picchiettato sul davanti ma che comunque sono luminosi mi piacevano molto abbiamo quasi finito ho ancora un paio di orecchini da farvi vedere abbiamo finito questi li avevo presi in spiaggia sapete i venditori ambulanti della spiaggia ero lì che prendevo il sole era arrivato avevo un sacco di orecchini bellissimi e io mi ero comprata questi che sono dorati con le perline rosse e adesso sono un po' consumati perché sono passati tanti anni ma quando li avevo comprati all'inizio erano molto luminosi quindi insomma mi erano veramente piaciuti e poi gli ultimi due orecchini sono questi questi che sono hanno questa forma un po' così irregolare diciamo e hanno qui sul davanti tutto un motivo un po' frastagliato fatto così che insomma mi piaceva tantissimo e poi questi che in realtà sono semplici però li porto spesso che hanno semplicemente i due cerchi uno sopra uno sotto uno più grande uno più piccolo questi sono solo alcuni dei miei orecchini perché ne ho tantissimi ne ho veramente di tutti i colori li ho sul marrone sul verde rosso bianco nero dorato argentato rosa ho veramente tantissimi colori e tantissimi orecchini questi erano solo una piccolissima selezione di tutti quelli che ho però non volevo fare un video lungo mezz'ora quindi ho cercato di essere il più veloce possibile e di restringere il più possibile poi magari farò un video anche sulle collane quindi vi farò vedere anche le mie collane vi farò poi anche vedere tutti i miei svaroschi i gioielli svaroschi che il mio compagno nel corso degli anni mi ha regalato quindi anche di quelli ne ho un bel po' non ne ho tanti come gli orecchini ne ho molti meno però anche quelli poi magari ve li farò vedere per oggi mi fermo ho concluso fatemi sapere nei commenti se anche a voi piacciono così tanto gli orecchini mettete un like al video se vi è piaciuto vi do appuntamento alla prossima vi mando un bacio enorme vi do appuntamento